Musica 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 Ciao a tutti ragazzi siamo Reppy e Molly e ben tornati in un nuovo fantastico incredibilissimo video con i capelli sempre più lunghi oggi abbiamo i capelli super lunghi e siamo tornati con Air Challenge Molly ma te li sei asciugati tutti i star di questi capelli guardate che capelli oggi dobbiamo cercare di allungare i capelli il più possibile perchè io li voglio come la Reppy vedete io li voglio allora nessuno qui tra i due avrà i capelli più lunghi di me quindi questo vuol dire che chi è che comincerà a giocare io perchè c'è il maschio non è vero io dovevo iniziare ok vai visto che questo piccolino anzi vediamo un attimo ecco mettiamo lei guarda c'è un nuovo guarda guarda c'è il vestitino roda quindi gioca a me bella la scusa per cominciare attenzione siamo già a 2100 potremmo sbloccare casuale oggi ne sblocchiamo uno vai Reppy andiamo e da un po' che non giochiamo chissà se non oh chissà se mi ricordo ancora come si gioca allora ti ricordo che il record super l'avevi fatto te Reppy ok ma questo gioco mi sembra che sia diventato ancora più difficile eccolo non ho preso neanche il perduto tutti i parrucchieri del mondo saranno contenti appena ti tagli i capelli mi sono già recuperato guarda 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 raperon solo oh cosa c'è qui vila 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 ok centro 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 ci siamo attenzione non sarà mai però ho fatto un buon puntezzo sembrano spaghetti vediamo oh 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 tocca a me vabbè però dopo tanto tempo però niente no aspetta ma dopo tanto tempo che non giocavo sono stata brava il record è 425 hai fatto 125 e vabbè cosa vuoi che sia 200 punti di differenza dai ok signorino ti faremo crescere i capelli come un susino lenta come un susino un susino l'impero di susino secondo voi si chiama susino ma cosa stai dicendo ok per due per due per due per due la borsa la borsa bella vabbè ma io la volevo la borsa ma perchè ho sentito un ciclo mia 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 hai sentito anche te questo rumore no non ho sentito niente ho sentito oh dopo questa no vabbè dai no 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 ma che è non ti meriti di rigiocare no cucci a cucci no non ti meriti di rigiocare no sei caduto no rigioco per due dai la borsa di nuovo attenzione borsetta vorresti oh vorresti sta borsa eh ma infatti perchè tutte le borse a te e poi caschi di sotto con la borsa mi piace la mia borsa di prada eh attenzione ho sentito un ciclo oh non hai sentito un bel niente ho sentito un ciclo nooo ok attenzione non puoi stare troppo tempo lì sopra si rompe tutto stai tranquilla oh mamma la tranquillità è tutto allora io so già che non faremo più il record qua oh cavolo cavolo non faremo più il record tranqui ti fidi di me? nooo 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 non ci arriveremo a fare un altro carattere ma guardate non la vogliamo la borsa no si che la vogliamo no non abbiamo le pubblicità ma io la volevo piglia questo e tocca a te basta bella quella c'ha anche gli occhiali hai visto? mi sono arrabbiato occhiali da sole ma hai visto che è molto più difficile adesso il gioco? no siamo noi che non siamo più capaci ok Rebi tipo per te devi fare il super record vai concentrati uno pigli i capelli e adesso? ma quando posso scendere? ahhh stavo per cadere lì su beh i capelli marroni non ci sono mai stati eh ma cosa dici? no i capelli marroni erano sempre colorati no sto dicendo una cavoletta ahhh allora raperò piglia 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 ahhh ahhh e sai che mi sono tagliata anche le gambe oltre i capelli Rebi stavi parma ma che capelli sono? beh però è stilosa guarda guarda è stilosa ma non fai neanche 10 ahahah ahhh ok allora io direi di rinominare questo video in non giocare così a air challenge dammi a me dai no no tocca a me tu prima hai fatto due volte hai fatto due volte prima che ne attacca a me che barona no 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 c'è una barona no e perchè è difficile c'è una barona no ti spiego è molto difficile ma ci spiego ahhh ok 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 se gioco io lo faccio io il record guarda sta andando bene oh oh attenzione vai Rebi vai Rebi di classe c'è scritto di classe zack 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 dai mi dispiace oggi non siamo in forma per questo gioco bravo un bel 30 e lode anche nella vita reale ho i capelli più lunghi di quelli guardate adesso ti faccio vedere io come si fa eh vai fammi vedere ok abbiamo quasi soldi per sbloccare un nuovo personaggio noi abbiamo ci mancano ancora 500 perchè stiamo facendo scopo tranquilla allora guarda devo cliccare questo andiamo 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 devo cliccare questo vai calma 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 si tranquilla clicca vai 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 bravo vai 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 uooo no ma quella non ci mph questo fail assurdo ma è sto tizio che è inzampato non sa camminare oh no ma dai stavi facendo un bel attenzione è sto tizio che non sa camminare è inzampato sopra i suoi capelli piano si va piano va sano e va a Milano con il parmigiano attenzione no cosa stai facendo mi stai andando avanti a passettini dai tranqui io voglio fare il record attenzione perchè lì ti fai la piastra no ho sentito un shock no ok prendi quella calma calma tutti i miei tutti i miei attenzione non sono tagliati i capelli i capelletti no dai no dai ma no la faccio finita ma che è ma neanche se la voglio far finita questo livello non ho finito questo livello lo voglio fare io mi dispiace era bellissimo questo livello ce lo siamo sprecati così ecco ho fatto 55 no ok tocca a me sicuramente questa volta facciamo il record ok come no sì il record come no bella quella dai ma io la voglio questa qui vai scegli il personaggio aspetta vediamo se c'è qualcosa da prendere lacca per i capelli ma che serve la lacca infatti non serve a niente niente via riprendiamo la mia preferenza anzi lei che non l'abbiamo mai usata oggi io voglio un record hai capito Rebechina ho capito oggi non siamo io sennò ti strappo i tuoi capelli guarda che se cominci così il record non lo farò mai mi devo concentrare molly monosiglio ho detto che mi devo concentrare mi devo concentrare fammi concentrare molly molly oh ma se vado qui di sotto aspetta ti ditte di stare buona oh mamma lunghissimi lunghissimi vatti capo record non ho sentito il ciac ma probabilmente perché stavo urlando stai buono sto facendo allora vuoi il record o no record ho sentito il raperonzolo però eh vai aveva detto raperonzolo va provare vai Ravi se la fai ahhh adesso devo andare oh no 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 pero sono lunghi non lo so quanto sono lunghi secondo voi quanto sono lunghi No non sono lunghi sono lunghi sono lunghi non sono lunghi sono lunghi sono lunghi sono lunghi sono lunghi tre�i ma essi buono 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 siamo stati bravi siamo stati bravi molto trex ha visto che sono stata più brava io oggi posso inquietare direi proprio di no volevo aprire un premio calma mamma dai guarda il premio più bello erano delle pincette mamma mia mamma mia mi piacevano le pincette signore avanti cosa direi ma posso giocare in santa pace no volevo fare una cosa volevi rompermi le scatole no se volevo romperti le scatole avrei fatto questo non mi rompere le scatole ma che è? stai andando bene? ma non fare i passettini non fare i passettini un po' più difficile ok aspetta te lo dico io 3 2 1 corri ma dai ma che è sto ma non posso fare un record con un livello del genere no questo livello in effetti ci sono alcuni livelli dove è impossibile fare il record perché ci sono pochi capelli no rigioco no rigioco perché te ne fate due anche te ne fate due prima le fate due prima vai far un record ma la prossima volta il gioco a tre volte ma te lo sogni si sono i capelli bicolore piccolore piano la torta al soccolato senza i canditi sono più ciascati, vai! vai! cosa stai dicendo, piano! oh mamma, è il record, quanto è il record? da 120 milioni di miliardi di migliori? li tagliano adesso? nooo diamo oh porca nooo calma calma ci siamo te li hanno tagliati no no ci siamo ci siamo ma perchè sennò sospesi su nulla i capelli andiamo 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 oh mamma no qui ci mette ok qua ci mette no qui ci mette male devi andare veloce aspetta 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 fermo aspetta qui c'è è meglio che cosa hai fatto nooo li hai tagliati io ti volevo dare il via pronto 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 ambulanza siamo messi male qua ok tocca a me potrei fare un record ma era record comunque se mi ascoltavi allora aspetta negozio possiamo sbloccare qualcosa vai oh bello ma è uguale a quella di prima è uguale a quella di prima vai usala vabbè usiamola vai allora con lei si fa il record eh ciao signorina adesso faremo oh oh ehi voglio prendere le scale vai rebi vai lì sopra tappeto volante wow tappeto volante tappeto volante attenzione oh una berretta nei capelli e la parrucca della nonna della nonna no non l'ho presa non l'ho presa non l'ho presa oh 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 mamma mia che fail assurdo ok se ti riproviamo perché non lo sapevo questo era un livello nuovo del tutto ignoto per me e quindi potevo prendere si si le scuse le scuse non c'è più la berretta della pepana carri 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 c'è la borsa non c'è più la berretta però c'è la borsa di chanel c'è la borsettina c'è la borsettina c'è la borsettina ma guardate prende la borsa e hanno i capelli yeah guarda come sono belline anche in questa nuova borsa non so se ci da più roba attenzione attenzione vai Reby per due c'è lì eh mi raccomando ok piglia il per due no vabbè il per due l'ho beccato no gioco io il per due l'ho beccato basta 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 no no faccio sognare questa signora ok però signore il libro però vai piano perché qui si può questo è un livello buono si potrebbe fare il record questo livello è molto buono modalità follia molto buono no hai già lasciato la metà dei capelli qui è la rapperunsolo 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 e comunque non è rapperunsolo è rapunzel 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 è la principessa che sta sulla torre rapunzel e poi quando arriva il principe fa sciogliere i suoi capelli mi ha fatto sbagliare a farne di sentirte cose non è vero ma non è vero quello che dice io mentre gioco ho scinto l'arabi e quello che dice è qui bla 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 no tocca a me tocca a me tocca a me ma si è bella visto che oggi mi hai fatto distrarre e molte volte hai giocato due volte perchè mi hai farlo molli fermo di classe o i miei toglie orecchie prendi le attenzione non prenderle ci sono passata sopra Per due piglia e per due per due Ok grande 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 pulsante il per due alla scadenza comunque è la sua ma Se passavano in sopra era finita per me vai brava 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 mi piacciono queste scale brava Non nel mezzo non nel mezzo bravissima o ci siamo ci sia o questa cosa o Tagli i capelli o Tranquillo va tutto bene o mio dio o mio dio Si potrebbe ribaltare la situazione C'è nella giornata più improbabile ho fatto un record Ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto Ciao 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 Ciao